Vedi quei fiori? Sì, quello con i terrazzi. Esattamente, questo è uno spiello. Sì, in questa baia così, ecco, abbiamo visto, si vede solo quando si entra qui nel porto. Eh, dall'altro senso non si può vedere, però a Portofillo in direzione di Santa Magaretta si riesce a vedere abbastanza bene. Adesso prendiamo questa stradina a sinistra che sale e arriviamo a filo proprio davanti per lo spiello. Questa è una stradina a sinistra. Questa è un'altra stradina. Questa è un'altra stradina. Questa è una stradina che si tratta la franno. Questa è un'altra stradina. Grazie a tutti.